buongiorno a tutti ben ritrovati non so se avete notato se noterete ma guardate sotto il dato del co2 di oggi secondo dato più alto mai registrato nella storia da quando vengono registrate anche dalle stime da quando esiste l'uomo quindi direi negli ultimi 200 mila anni siamo quasi a 416 parti per milione di co2 c'è stato giusto un piccolo anno scorso a 418 isolato che risulta che dato più alto ma vedremo speravo che stesse decrescendo perché gli ultimi dati ci davano più o meno attorno ai 413 anche scendendo a 412 qualcosa invece oggi di nuovo esploso oggi già dato di ieri di nuovo esploso e in v news di oggi la dedico a questo capo indiano di origine brasiliana non solo la pronuncia corretta ma al mir narayamoga surui che è un capo tribù dal 1992 di questa tribù paiter surui che è un popolo indigeno del brasiliana al mir ha una storia relativamente particolare ha 45 anni 46 quest'anno del 74 è l'unico della sua tribù che uscendo dal suo villaggio è andato a studiare si è lavorato in biologia dal ritorno si portò un computer e scoprì tutta una serie di realtà che ruotano attorno al suo territorio la sua tribù ed allora si è sempre impegnato per proteggere la foresta amazzonica per questo da un lato ha ricevuto molti riconoscimenti ma dal 2006 è braccato è minacciato proprio perché questo suo impegno contro la deforestazione amazzonica quindi è una persona a rischio un tempo solo dalle multinazionali che erano interessate a sfruttare l'amazzonia più recentemente anche da ciò che ruota attorno al mondo politico brasiliano e la invi news è legata al fatto che il 20 di gennaio quindi pochi giorni fa avrebbe dovuto partecipare a un evento a parigi al medef vicino a parigi e non si sono avute sue tracce avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto di roissy credo char de gaulle se non ricordo comunque un aeroporto di parigi e non è atterrato quindi si sono prima diffuse non in italia ma sui giornali francesi notizie circa la sua sparizione forse poi stato ripreso a quale è stata online italiana ma poca roba e invece da ieri sta circolando la notizia che pare che al mir sia di fatto rientrato comunque non sia partito e sia al sicuro tra gli stati uniti e il brasile non si sa esattamente dove ma comunque pare che sia al sicuro questo però ci dà l'idea di come chi si impegna per la protezione del proprio territorio chi cerca di difenderlo chi cerca di chi ci mette la propria faccia il proprio corpo la propria vita a difesa del proprio territorio e va quindi contro interessi politico economici rischia rischia in prima persona quindi buona notizia sperando sia confermata che al mir è vivo però preoccupazione perché viviamo in un momento storico forse sempre stata così la storia dell'uomo che chi in realtà cerca di vivere in armonia con la natura rischia di lasciarci le penne questa invece non è una buona notizia come non è una buona notizia quella che ho dato proprio all'inizio e cioè di questa esplosione del co2 in atmosfera quasi a 416 parti per milione nonostante tutto questo vi auguro una buona giornata ciao